io è circa un annetto che utilizzo lo shelter e posso dirvi che l'ombrellone è un accessorio veramente molto molto utile e una volta provato una volta utilizzato difficilmente poi riusciamo a farne a meno l'ho utilizzato come avete visto questa estate in diverse battute quando abbiamo pescato sotto il sole cuocente a 40 gradi nel periodo di luglio agosto il mattino presto quando abbiamo tanta umidità comunque tanto freddo per cui tiene la nostra attrezzatura le nostre vivande comunque al riparo all'ombra durante il giorno ci protegge nelle fasi notturne dove c'è molta umidità dove c'è molto freddo ci ripara anche quando magari qualche goccia di pioggia è sempre sconsigliabile andare a pesca quando ci sono forti perturbazioni temporali per cui mi raccomando ragazzi la sicurezza prima di tutto però magari qualche gocciolina siamo qui magari nuvoloso inizia a piovere protegge noi protegge la nostra attrezzatura per cui è veramente un accessorio molto molto utile e a mio avviso è diventato veramente fondamentale perché è estremamente versatile e lo porto sempre con me